Il presepe Gioiosano 2011 si svolge proprio a Gioiosa Marea nel Borgo Marinaro presso la stazione il giorno 18 e il giorno 26 alle ore 17. Quest'anno un presepe ancora innovato perché il presepe Gioiosano ha la caratteristica di riportare in vita i mestieri di una volta, i mestieri che si svolgevano nel Borgo Marinaro di un tempo ma soprattutto i modi di dire tipicamente arcaici, ovviamente non più in uso. I partecipanti sono intorno a 100 e si ripetono ogni anno, alcuni vanno via, tanti altri ne entrano a far parte. Il presepe si pregia di alcune figure che all'epoca sono state molto importanti e che hanno fatto la storia. Uno di questi è il capo Reis impersonato da Silvestro Borà che è un discendente appunto della famiglia Giuliano, diciamo è il pronipote. E lui proprio interpreta la parte del capo Reis che è una parte anche secondo i miei modesti parametri molto suggestiva. E' vero Silvestro? Sì, praticamente questa scena mette in atto tutti i momenti passati dei nostri pescatori gioiosani. Un lavoro che praticamente era fondamentale e importante in quel periodo in quanto si viveva fondamentalmente di pesca. Quindi si è passato da questo capo Reis a tutti praticamente i pescatori che vivevano alla giornata di questo lavoro. Silvestro, tempo fa quando hai letto la parte mi hai detto, sai Giuliana mi sono commosso, perché? Mi sono commosso perché praticamente in quelle parole ricordo anche il lavoro che comunque mio padre ha fatto, perché è cresciuto con quel lavoro, sei figli. Anche se a parte faceva anche il muratore, però fondamentalmente lui viveva del mare, il suo mare è basta. E' una persona che ci voleva tanto bene, ma non aveva tanto tempo di dimostrarcelo perché aveva sempre la premura di scappare a mare, la barca, il mare è forte. E' la sua premura di chiamarci, di averci sempre vicino a sé, anche nei momenti in cui, soprattutto quando il mare era più forte, cioè a scappare noi senza esitare andavamo da lui. Quindi mi ha ricordato quegli attimi, soprattutto, non dico gli ultimi, quelli antecedenti, gli ultimi periodi della sua vita, molto importanti per me. Le origini del presepe appunto sono di carattere tipico, tradizionale e in ognuno di noi, in ognuno dei cento partecipanti, comunque vi è un aggancio al borgo marinaro. E questo senz'altro colloca il presepe gioiosano fra i presepi più belli di tutta la provincia di Messina, ma anche oltre. Proprio non voglio sembrare immodesta, però vi posso dire che il presepe vivente e animato gioiosano è una rappresentazione teatrale in tutte le sue forme. Quest'anno sarà un presepe ancora più animato perché la vita si svolgerà proprio con i visitatori. Ogni visitatore farà parte della vita del borgo di una volta e queste vite si intrecceranno assieme ai personaggi perché ognuno di loro rappresenta un personaggio legato all'epoca. Lucia è un'artista, principalmente moglie e mamma sicuramente, ma è un'artista. Ha recitato e continua a recitare in teatro e per cui è stato facile fare la parte della non citiamo nulla perché così magari incuriosiamo la gente in maniera che possa venire. Ed è una parte nella quale Lucia ha trovato forse la sua collocazione migliore. Perché? E perché? Se mi fai dire il perché forse sveliamo un po'. Uno che perde il lavoro, che deve girare. A parte che la storia è un po' di tutti, di molti, non di tutti, fortunatamente, la storia è di molti. Oggigiorno ritrovarsi da un giorno all'altro senza lavoro e girare disperati. Non dico altro. È vero, non dice altro perché sveleremmo proprio il mistero. Lucia, la tua è una parte insolita, sicuramente una parte che non si trova con facilità in un presepe. Sicuramente per molti sarà una nota stonata, per molti invece sarà ancora un'attestazione di novità. E tu Lucia, come l'hai vista quando io ti ho proposto di fare questa parte? Questo ruolo proprio? Ma per me penso che sia la storia di sempre questa. Perché oggi la vediamo in un modo, una volta si vedeva in un altro modo, ma è sempre quella la storia. Lavoro, mangiare, è una ruota che gira, da secoli. Lavoro, mangiare, è una ruota che gira, da secoli.